musica giusto un piccolissimo flash su chi è number one chi è number one è un'azienda nata dallo spin off del gruppo Barilla e oggi è un'azienda indipendente seppur parte al 100% del gruppo ancora più indipendente perché aveva un lead quarter, un amministratore legato diversi da quelli del gruppo sostanzialmente abbiamo una struttura indipendente lavoriamo solo in Italia e solo all'interno di un settore che noi definiamo come grosseri in cui non c'è grosseri a temperatura ambiente quindi non lavoriamo nel mondo della temperatura controllata se non in periodi particolari dell'anno quindi in estate per alcuni prodotti particolari quindi fatturato di 300 milioni di euro, siamo un'azienda più grossa che c'è in Italia su questo settore il compito più principale è fattura circa un terzo, un quarto 360 dipendenti diretti più chiaramente tutti quanti le cooperative quindi che noi utilizziamo all'interno del mondo dei magazzini 35 siti, movimentiamo circa 30 milioni di quintali all'anno questo è un numero importante ma la particolarità di number one è che sono tutti prodotti della stessa categoria merceologica questa è la differenza il nostro netto distributivo è formato da sei hub principali Milano, Parma, Roma, Caserta, Catania e Cagliari che compongono l'ossatura del netto distributivo poi accompagnati da 19 transit point che sono i piccoli punti di cross dock in transito veloce regionali che si occupano di quello che è il mercato, la distribuzione secondaria che evidentemente negli ultimi 5-6 anni è cambiata in maniera drastica visto anche appunto come si diceva, come lo insegni, il concetto di centralizzazione in qualche modo delle consegne che ha cambiato, ha mutato il modo di fare logistica in Italia in questo settore quello che io ritengo essere un aspetto importante alcune volte un po' trascurato se vogliamo dell'organizzazione del tender è tutto quello che viene prima della formalizzazione del tender prima dell'organizzazione stessa del tender cioè alcune domande che in alcuni tender sono molto ben strutturate si vedono all'interno della struttura del tender in altri un po' meno sono al mio punto di vista importanti quindi è chiaro che la struttura del tender dipende molto da quello che è l'oggetto stesso del tender c'è una, l'anno scorso, quest'anno c'è ancora un'indagine interessante da parte delle Politecniche di Milano su il mercato della logistica in Italia in cui una delle visioni grosse che è stata fatta è quella si parla di commodity o di strategic outsourcing perché? Perché chiarire questo punto qua è un punto fondamentale ne abbiamo parlato, abbiamo parlato con Cabella ne ha discusso di la riflessione che si sta fatta all'interno della sua azienda di che cosa stesse cercando all'interno del mercato dei provider logistici perché è un servizio molto differente ma anche i provider che possono fornirlo sono estremamente diversi come pure un discorso dal mio punto di vista interessante che è stato trattato che riguardava appunto la buon insegni è se si parla di una transizione perché in alcuni casi succede da un modello più orientato verso il comprare una commodity a un modello che invece si sposta verso una strategica outsourcing che ha una complessità differente in termini di gestione ma anche una differenza nella ricerca di parametri che devono essere valutati all'interno stesso del tender o della ricerca quindi è fondamentale capire anche in quale fase dell'azienda uno si trova e qual è il rischio di scrivere in maniera corretta a livello strategico anche l'oggetto della discussione un secondo punto che secondo me è importante come riflessione preliminare è quello sul livello di servizio richiesto anche qui appunto è stato un punto discusso precedentemente da buon insegno anche il discorso di qual è il livello di servizio che ci si aspettava cioè qual è il livello di servizio attuale fornito ma in particolare qual è il servizio futuro quindi quello voluto io aggiungo un punto da quella che è la mia esperienza in alcuni casi il livello di servizio percepito all'interno di un'azienda non è lo stesso di quello percepito all'esterno dai clienti e il gap in alcuni casi tra queste due percezioni è piuttosto importante come number one acquista il trasporto evidentemente noi ci troviamo spesso evidentemente a ripensare o a cercare di capire se la modalità di acquisto del trasporto di number one in questo momento è quella corretta spesso ci troviamo a ridefinirla evidentemente ma io dovendo come Armando ha chiesto appunto provare a sintetizzare in quattro parole quella modalità che ha number one nel questione dei mezzi del trasporto lo sintetizzerei in quattro punti numero uno number one cerca di comprare al prezzo giusto ma definendo il prezzo che si vuole comprare cioè difficilmente noi se non per attività commodity pure noi facciamo un tender per capire qual è il prezzo il prezzo lo conosciamo già e il prezzo lo stabiliamo noi spiegherò poi meglio quando spiegherò sotto cosa si intende per le due tipologie di gestione che abbiamo pagare l'exa flessibilità cioè noi cerchiamo di valutare sempre quando noi andiamo a comprare trasporto sul mercato se questo trasporto che noi andiamo a comprare è un trasporto stabile o richiede della flessibilità questo è fondamentale perché di dove non richiede flessibilità non siamo disponibili a pagarla e dove invece lo richiede ovviamente siamo disponibili a pagarla il dividere l'attività è fondamentale e ovviamente tralascio il terzo punto evidentemente i controlli assidui e le regole chiare di gestione questo è il must di qualsiasi tipo di tender che noi facciamo noi abbiamo due modalità di gestione della parte di trasporto una è estremamente stabile il parco number one noi abbiamo acquistato dei semi rimorchi di proprietà e abbiamo creato dei consorsi composti da piccoli padroncini che lavorano in esclusiva per number one lavorano in media continuativa e noi garantiamo a questi soggetti il lavoro fisso sostanzialmente in questo caso torno a comprare al prezzo definito siamo noi a definire il prezzo siamo noi a definire il prezzo perché siamo noi a fare il conto economico dei padroncini e noi forniamo come number one tutti i servizi che non dovranno loro avere tutti gli overhead che loro non dovranno avere come l'acquisto del carburante l'assicurazione, la gestione delle palle l'amministrazione, le pianificazioni eccetera eccetera quindi noi forniamo a questi padroncini questo tipo di attività abbiamo dei padroncini che possono lavorare solo per noi e a cui assicuriamo il lavoro in maniera continuativa questo è un blocco di attività su cui noi non facciamo tender qui la valutazione è solo una valutazione di qualità del servizio nient'altro questo è come se fosse una flotta di proprietà senza esserlo direttamente in cui il prezzo lo stabilisce number one in quanto la volontà di number one deve andare avanti con questi padroncini per il più lungo tempo possibile e quindi il prezzo deve essere commisurato a quello che è l'attività la seconda parte invece evidentemente un esempio come number one soggetta alle fluttuazioni normali nel settore in cui lavoriamo quindi le stagionalità normali in alcuni sottosettori particolari come il beverage non può avere solamente una base fissa ma deve per forza fare in modo di gestire anche la flessibilità flessibilità che noi gestiamo al 30-50% mediamente sul totale gruppo delle aziende evidentemente lavorando in più settori in più sottosettori nel mondo grosseri abbiamo alcune situazioni di contostagionalità cioè la birra che distribuiamo in estate i panettoni che noi distribuiamo a Natale quindi comunque nonostante questo abbiamo comunque dei picchi di stagionalità che in alcuni casi alcuni giorni arrivano al 50% rispetto alla media quindi utilizziamo comunque compriamo il trasporto dall'esterno lo compriamo in maniera però comunque con relazioni comunque che non sono relazioni di sport ma sono comunque sempre relazioni di breve periodo ma anche di breve periodo intendiamo dall'anno in avanti e in questo caso ci rivolgiamo sostanzialmente tramite dei tender a pochi fornitori fidati che annualmente appunto vengono in qualche maniera rivalutati sulla base del servizio del prezzo anche se ad oggi non considerando diciamo questo tipo di attività qua come commodity e dovendo definire noi stessi delle regole del gioco facevamo fatica a gestire i mani con tendere elettronici grazie a tutti grazie a tutti